Benvenuti amici, io sono SaoPimpos, oggi siamo su Barbarita Non so se si chiama Barbaro o si chiama Rita, comunque Barbarita E niente, è un altro gioco in stile Granny, però qui abbiamo a che fare con questa Una strega, non lo so, si chiama Barbarita, quello che è adesso lo scopriamo Prima di iniziare il gioco possiamo sciopparci delle cosucce eventualmente Ma noi ovviamente siamo poveri, stiamo iniziando adesso, quindi andiamo ad affrontare Barbarita Così com'è, scuro come la morte proprio, buissimo Allora, siamo sempre intrappolati, no? E perché noi in tutti i giochi iniziamo in una cella Le tre del mattino, get out of here Dobbiamo uscire da qui, entro che ora, non lo so, entro il giorno probabilmente Quindi entro le sei del mattino Cominciamo ad esplorare la casa di Barbarita E niente, molto simile a Granny, però i controlli devo dire che sembrano funzionali Finalmente un clone Dove i controlli sono funzionali E insomma, ogni tanto si blocca Allora, qui c'è un condottino, forse perché, ok, qui non prende Se io switcho qua, prende, quindi evitiamo di switchare la visuale qui Perché lì non prende più Vabbè, mi abbasso e mi incoraggio E vediamo quello che c'è da fare Ovviamente si saranno una marea di oggetti da trovare E io non ne sto trovando, dico, non è che è una novità E niente, caminetto, televisore Poi, cassettini, Barbarita No, Barbarita non c'è Buono Non è che ho impostato il livello di difficoltà easy, molto easy, pratica E non c'è Barbarita Perché io a Barbarita la voglio vedere Vogliamo conoscere Barbarita Mi è caduto qualcosa Un fusibile Almeno un oggetto l'ho trovato Quello che si apre Niente Un fusibile Dov'è il fusibile? Ce l'ho in mano, sì, ok Cerchiamo il posto in cui inserire un fusibile Qui, da queste parti Ragazzi, provatelo Fatemi sapere nei commenti se riuscite a completarlo Questo gioco Qui ho trovato una chiave blu No Cacchio Una water pump switch Ok Allora, intanto La droppo qui Nel caminetto Poi Piglio il fusibile E almeno so dove Sono andato a buttarli Gli oggetti salve Salve Barbarita E comunque Dico Fammi In faccia Non la voglio più vedere in faccia Gioco orribile Nel senso che Fa paura Non che il gioco è brutto Gioco Paurosissimo Provatelo Jumpscare Questi sì che fanno paura Sti jumpscare E sono le due del mattino Ah che va a scalare Che senso va a scalare Poco fa erano le tre del mattino Come che va a scalare Non lo capito Del giorno dopo Questa non l'ho capito Vabbè Andiamo avanti Allora Barbarita se vi fa Jumpscare Ve la sognate la notte Ragazzi Sappiatelo Perché è molto inquietante Molto inquietosa Allora Questa che è L'armadietto dove mi posso nascondere Ho sempre il fusibile in mano Non perdiamo gli oggetti Sta cosa è ottima Ottima Non perdiamo gli oggetti Anche se Barbarita Ci dà un bacetto Noi non perdiamo gli oggetti Oh oh You need a water pump switch Eh guarda caso Mentre il fusibile non serve Beh io mi sono portato un fusibile Qui Un fusibile qui no E allora Mi troppo qua Il fusibile E vado a prendere la switch E giochiamo a Super Mario No la switch Ok Quanto meno il fusibile Il bello è che non perdiamo gli oggetti Sta cosa è bellissima Allora Ritorniamo nel caminetto Mi vado a riprendere la leva La metto lì Così poi posso riprendere Il fusibile per terra Uno Uno Luna del mattino Va a ritroso l'orario Vabbè A casa delle streghe funziona così Gli orari funzionano al contrario Allora Io me la rinzino di nuovo per di qua Comunque Gioco da capire ragazzi Non Non sembra difficile Però Annarrita è sempre qui No barbarita Fine Fine Avete tre possibilità ragazzi Ecco perché va a scalare 3 2 1 Morte Insomma E vado all'home Qui non c'è possibilità di selezionare la difficoltà C'è possibilità di ottenere delle monetine in gioco Forse si troveranno in mappa E tipo questo potere Vi dà la possibilità di non essere visti dal nemico Mentre questo vi dà uno shield Uno scudo E quindi ottimo Ah ok Watch ads To get monete Vabbè Quindi se volete facilitarvi il gioco agli estremi Guardate gli ad E ve lo facilitate Ok Quindi non c'è possibilità di selezionare difficoltà ragazzi Il gioco è così E così ve lo tenete A meno che non utilizziate quegli oggetti E niente Io una volta tanto che avevo trovato qualcosa Giro giro Quanto è figo il ma Avevo trovato degli oggetti E non sono riuscito manca ad utilizzarli Dove cacchio si esce a sto posto dello schifo? Eeeh Ecco non c'è niente Niente Apo la porta e me ne va E me ne va Allora Quindi Cominciamo nuovamente Oh vedi La switch l'ho trovata Perfetto Quindi adesso devo ritrovare il postaccio In cui me ne sono andato poco fa Dove cacchio era però Oh salve Salve Non ve ne va Che paura che mi prende Mi prende Ok e niente E' un altro giorno perso Molto Cioè stavo Avevo detto poco fa Non mi sembra difficile Invece Attenzione Attenzione perché lei è molto insistente E sono le due del mattino E' già una giornata E' andata a funghi Comunque Gli oggetti in mano Non si perdono Questa è una grandissima novità Per quanto riguarda Eh ma signor Ma c'erano otto le scatole Per non dire C'erano otto le scatole No Signora Signora Perché Ultimo giorno Ultima notte Ultima ora Per così dire E niente E siamo a niente Ho trovato solo due oggetti In questo gioco Uno del mattino Luna del mattino Ok Gerardo Fier Se la signora Allora C'è Ovviamente c'è il modo Di affrontare il gioco Se c'è andato così A viso scoperto Come faccio io Normale che quella vi ammazza Quindi Se io Mi nascondo qua Il problema è che Se mi nascondo Non ci possiamo nascondere Qua Invece si Ok Ah ok E niente Si vede Si vede attraverso Dov'è la signora Che tanto frantuma Le scatole Che fa Non esce più A paura Dove cacchio Sarà andata E niente E quando io metto Il naso fuori Dall'armadietto Quella spunto Ovviamente Perché è una faccia di capra Allora Fatemi capire Oh Perfetto Mi chiudo Mi barrico qui Attiviamo la leva Adesso dice Ti manca il fusibile You must turn on The electricity E perché sono faccia di capra E perché sono faccia di capra L'electricity Dov'è? Dove? Dove la ripristino L'electricity Io Ma tipo qua Ma tipo su Lei è una brutta persona Lo sappia E siamo morti di nuovo ragazzi Siamo morti di nuovo Ma con geta chains Dobbiamo guardare video Ovviamente Allora ci riproviamo Un'altra volta Un'ultima volta Cerchiamo di esplorare Stanze che ancora Non abbiamo esplorato Lì possiamo mettere La leva Però prima Dobbiamo attivare La corrente E la corrente Per attivare la corrente Ci vuole il fusibile Il fusibile Non l'ho più trovato Quindi va bene così Allora me la esco sempre di qua Barbarita se ne va là E io vado ad esplorare Altri postacci Tanti cassetti Il problema è che lei non si sente Il problema è anche che io parlo Come sempre in questi giochi Che io parlo Non sento mai il nemico Ok qui facciamo totalmente il giro Lì c'è qualcosa Se spegniamo Con dell'acqua Il caminetto Possiamo recuperarci Qualche oggettucolo E allora vado di qua Qua che c'è Chiudiamoci sempre le porte dietro Non si sa mai Barbarita È molto insistente Oh E qui abbiamo trovato Key to water system La chiave del sistema Di controllo dell'acqua Probabilmente Mai sentita una cosa del genere Però quasi Quasi Però io vado via Vado via Vado via In una prossima stanza Dove andiamo Non facciamo rumore Qui porta Al cesso Oh vedi Qua possiamo forse inserire La chiave Per il sistema Di controllo dell'acqua Qua invece Dove c'è Ando a svitare qua Io ne ho FUTCHI Ma come Io trovo qua cose Però non le posso utilizzare Io invece ho trovato Il sistema di controllo dell'acqua Non va bene Qua che è Questo che è Water pump switch Ok L'abbiamo trovata qua E niente Salve Non è bene Nonna Nonnino Ma perché Lei mi picchia Ma perché mi mangiucchia La faccia E siamo alle 2 del mattino Complica tutto Io poco fa Avevo detto Non mi sembra Tanto difficile Invece posso affermare Dopo 3 tentativi Che il gioco È abbastanza difficile Ragazzi Anzi Toglierei anche L'abbastanza C'è da capirlo meglio Tutto qui Tutti questo tipo di giochi Cioè Che cacchio faccio Tutta questa tipologia Di giochi Va capita Per affrontarla Al meglio Non la potete affrontare Così A caso Dove volete andare Andate No Perché quelli Vi ammazza Vado dritto Per dritto Vediamo dove C'è una telecamera C'è un quadro C'è la mia morta Oh C'è un piano superiore Un piano inferiore Me ne vado Oh guarda dov'è L'elettricità è qua Tac Ecco Qui dovevamo inserire Il fusibile Allora E infatti Dove è Adesso dove lo vado a trovare Un fusibile Io dove Allora questo lo butto Questo lo butto qua Che cos'era però La key to water system Da troppo qua Va dalla ricerca Questo gioco Fa paura Questo gioco Vi fa jumpscare E quando voi Non ve lo aspettate E vi fa paura Andiamo all'ultima Ora L'ultima Devo trovare il fusibile Trovando il fusibile Perché cammina da solo Trovando il fusibile Possiamo attivare L'elettricità E poi con l'elettricità Attivare il sistema Di lì Con la valvola Con la switch Allora Qui che c'è Niente Quindi me la sbuco Sempre di qua Vediamo Lo salve Non facciamo Cerchiamo di non fare casino Cerchiamo di Il trucco in questi giochi È non fare casino Perché lei Sente Più di granny Qui non c'è un figo secco Nella stanza Oh cacchio Ma non è bene Non ho fatto casino io Qua non potrebbe Mi baciucchia tutto E niente Gioco difficile ragazzi Altro che storia Questo gioco è abbastanza Complicatuccio Quindi C'è anche un trailer Fatemi sapere Nei commenti Se lo provate Se riuscite A completarlo Questo barbarita Visto che non c'è Nemmeno Una modalità pratica Voi dovete affrontare Il gioco Più volte Per capirlo E per completarlo Ma dovrete morirci Tante di quelle volte Che voi non immaginate Quindi Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video